Da quando è arrivato Juric, la Roma ha vinto due partite, ne ha perse due e ne ha pregiate altrettanto. Ma il dato preoccupante è che l'unica partita convincente è stata la prima, Roma Odinese vinta 3-0. Juric, come vi avevo anticipato, non sta risolvendo il problema Roma. Anzi, questa squadra era stata costruita per De Rossi che voleva una squadra più tecnica. Juric, sappiamo, l'abbiamo visto, in anni nel Torino vuole una squadra fisica che corre, che lotta, ma molto poco tecnica, più difensiva. E il risultato è che questa squadra fa un'enorme fatica. La Roma ha vinto nettamente con l'Udinese più per una reazione dei calciatori dopo l'esonore di De Rossi che per veri meriti del tecnico giallorosso. In più, bisogna dire che l'altra vittoria è arrivata soffrendo in rimonta contro il Venezia, non proprio il Real Madrid. A peggiorare la situazione è arrivata la sconfitta contro l'Helzburg in Europa League, non proprio il Real Madrid. Una sconfitta che Juric ha provato a giustificare dicendo che la Roma meritava di vincere, ma quando perdi contro una squadra settima in classifica nel campionato svedese, veramente, non dovresti cercare scuse. E a questo poi si unisce il pareggio contro l'Atletico Bibau in casa, partita da non sottovalutare, ma la Roma stava conducendo e doveva portare a casa i tre punti, e il pareggio contro il Monza fuori casa. Monza che ieri ha raccolto la prima vittoria stagione e siamo a fine ottobre, anche lì, una Roma che ambisce alla Champions League quella partita, la De Vincere. La sconfitta in casa contro l'Inter era obiettivamente prevedibile, anche se la Roma ha pensato con Juric soprattutto a difendersi, creando poco in fase offensiva, e poi subendo il gol dell'Inter in un clamoroso contropiede, esaltato dal clamoroso errore di Zaleski. Ma non è solo un problema di punti che sta facendo riflettere la dirigenza giallorossa, è anche l'involuzione del gioco della Roma, che, intendiamoci, con De Rossi non stava brillando, ma almeno potevi capire un ragionamento, un'idea di gioco. E invece con Juric vediamo una Roma in grande difficoltà. Non solo, aggiungiamoci che Solè, il più grande investimento dell'estate giallorossa, è finito in panchina, che Dybala contro l'Inter giocava tersino, ed è una follia tattica, e questo sta facendo riflettere profondamente la dirigenza giallorossa, che addirittura sta pensando a un clamoroso ritorno. Perché Juric sta obiettivamente fallendo e la Roma ha disperato, bisogno di invertire la tendenza, e quindi si pensa a un ritorno di De Rossi. De Rossi che ha altri tre anni di contratto con la Roma, contratto rinnovato a giugno, non ce lo dimentichiamo, e De Rossi che ha anche cambiato agente passando a Ramadani, che è un agente molto forte in Italia e in Spagna, e questo è un segnale, può essere, di volontà di tornare subito in sella. Certo, non so se De Rossi accetterebbe di tornare alla Roma, ovviamente non per mancanza di affetto, ma per come è stato trattato dalla dirigenza giallorossa. Non ce lo dimentichiamo, De Rossi è stato abbandonato, tra virgolette, dalla società, un calciomercato arrivato in grave ritardo rispetto a tutte le altre, e a De Rossi non è stato dato il tempo di allestire la sua squadra, di impartire i suoi ordini tattici al gruppo. C'è da segnalare che uno degli acquisti più importanti, non dal punto di vista economico, ma sicuramente dalla personalità, Hummels non ha ancora giocato un minuto, giocatore che non gioca da mangio, giocatore in l'accogliandi, acquisto discutibile, ma che può portare esperienza in una squadra della Roma sicuramente più giovane rispetto al passato. Certo, io non credo che De Rossi tornerebbe mai alla Roma in questa situazione, però mai dire mai. È vero che l'allenatore giallorosso è legato a un contratto che lo lega la Roma per i prossimi tre anni, ed è anche vero che Juric sta fallendo. Onestamente Juric non era la soluzione giusta per la Roma, perché a fine settembre non prendi un allenatore diametralmente opposto come idee e tipo di gioco a quello che hai attualmente, soprattutto con la rosa della Roma a disposizione. Per me l'esonero di De Rossi è stata follia pura, ma ancora peggio è stato sostituirlo con Juric. C'è ancora tempo, giovedì c'è Roma-Dinamo-Chiev, una partita sulla carta abbordabile per i giallorossi, la Dinamo-Chiev ha vari problemi, e quindi la Roma in casa deve portare a casa i tre punti, anche perché adesso la Roma è ultima in classifica in Europa League con un solo punto, e quindi i giallorossi hanno bisogno di fare un bottino pieno. Il calendario della Roma non è proprio facilissimo nelle prossime giornate, perché detto di Roma-Dinamo-Chiev, in campionato domenica c'è Fiorentina-Roma, Fiorentina lanciatissima, Roma invece in difficoltà, che deve però cercare di fare i punti. Poi nel turno infrasettimanale giovedì la Roma ospiterebbe il Torino, Torino che era partito benissimo, che adesso sta un po' rallentando, però sempre una bella squadra difficile da battere. E poi domenica 3 novembre ci sarebbe il Verona fuori casa. La settimana successiva ci sarebbe ancora l'Europa League, trasferta contro l'Union, e si chiuderebbe questa serie di partite con il Bologna in casa. Bologna che sta facendo fatica questa stagione, ma Bologna che è comunque una squadra non facile da battere. E poi alla ripresa, dopo la pausa per la nazionale, c'è Napoli-Roma e Tottenham-Roma. Due partite complicatissime, due partite che potrebbero rivelarsi già decisive per il campionato e per l'Europa League. Ecco, Juric ha sei partite per convincere la dirigenza giallorossa. Io credo che De Rossi non entrerebbe adesso, ma alla prossima pausa per la nazionale, se le cose dovessero andare male, De Rossi potrebbe subentrare. Ricordiamo che nelle prime sei partite la Roma ha veramente fatto fatica. È vero che ha vinto due partite, però vincere contro Venezia in casa è scontato, invece la Roma ha fatto molto fatica. nelle altre partite abbiamo visto una Roma molto opaca e soprattutto se escludiamo l'esplosione di Dobvik, tutti gli altri giocatori hanno fatto enorme fatica. Io non credo che Juric sia l'allenatore giusto della Roma e dopo aver fallito al Torino io sarei andato su altri profili e quindi Juric si gioca tutto, secondo me, nelle prossime sei giornate. Voi che ne dite? Scrivetevi un commento qua sotto e se vi è piaciuto questo video mettete mi piace. Grazie.